Sì, quando si dice la palla per il San San Carone e per i morti si dice... ...e per i morti sono tornati su un barbano e non so spiegare la palla... ...e che cosa avete avuto a cena? No! ...e che vuoi tenere? ...e che vuoi tenere? ...e che vuoi tenere sotto, guarda la vista quando ha scostato il betone? ...e un vino di Brescia! ...che cosa? ...e che cosa? ...e che cosa? ...ecco quiiii! ...zucchero? ...zucchero? ...due grazie! ...ah, per lei dottore? ...e due anche a me, grazie! ...no! ...ci sono io! ...ve lo ridete prima anche io! ...buono! ...ma che cos'è? ...a un pezzo mio, un piatto! ...ma è buonissimo! ...infatti mi pareva di aver riconosciuto il gusto! ...complimenti? ...complimenti dottore! ...la è anche un espatto di te! ...no, ma dovevi dire... ...che gusto! ...che gusto! ...che gusto! ...che gusto! ...che gusto! ...cap? …ma non lo voglio Дñenne... ...complimenti dottore! ...che servevo che lei forse anche un aspetto di te! ...anche! ...ah si il dottore, un aspecto di musica classica... ...e vi ricordo con kurvito il bravo che stavo tramando su! ...e stavo tramando su! ...que stavo tramandone su! ...e stavo tramandone su! ...se spugnande su!! ...e stupido jeden... ...e stupido qualcosa! Ma no, è solo... Cosa? No, che cosa? Ma no, è solo... Desibilità, dottore. Non è solo desibilità. Comunque ha ragione, questo... Ma no, io veramente... Me l'ha detto? Ah, no, no, me l'ha detto... Mi scusi, dottore, ma nessuno l'ha detto. Beh, capite, io... Lei ha percepito... Ah, lei ha percepito il linguaggio di mia madre. Io? Io? Complimenti, dottore. Lei è un anno...